Mare fuori quattro, siamo qui con i protagonisti dei protagonisti, la coppia più attesa, Massimiliano Cagliazzo e Maria Esposito e con Ivan Silvestrini che è il regista anche di questa stagione dopo quella scorsa. Rapidamente Ivan, questa è la stagione dell'introspezione, un po' una sorta di beside di quella precedente, possiamo dirlo? Sì, io trovo questo varagone molto giusto, io credo che questo sia proprio il lato B della terza stagione dove si scende ancora più a fondo e dove ci sono i momenti che tutti hanno aspettato dopo aver visto la terza stagione la terza stagione è stata molto intensa, molto forte, molto drammatica e ha aperto una serie di domande di attese che in qualche modo troveranno risposta in questo lato B che è questa quarta stagione che è il contraltare della terza stagione, quindi preparatevi a tutto ciò che avete aspettato. Ecco, Massimiliano e Maria tutti aspettano di sapere come è andato questo sparo ma visto che state qua la risposta ce l'abbiamo. Eh, more Carmine. Eh, insomma, se state qua evidentemente. Ma invece quanto vi hanno assediato, quanto vi hanno chiesto in questi mesi? Siete riusciti, diciamo, a campare proprio con la gente che vi assediava per sapere chi era stato poi? Certo, io dicevo che mi sono sparata da sola. Ecco, e tu? Io dicevo che moriva Carmine. No, però sì, nel senso sì, poi lo chiedevano ma con già la retro consapevolezza di sapere che non potevamo dirlo. Era più per sorridere insieme dell'ultima scena. Senti, invece questa quarta stagione poi è probabile che non si può raccontare niente, no? Quindi, però siete soddisfatti di quello che vi accadrà, diciamo così, dai? No, 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 però uno deve seguire l'arco narrativo, no? Eh, vedi Ivan, qui i ragazzi bisogna accontentarli pure un po', eh? Eh, sì, bisogna, fino a un certo punto. Però i ragazzi si devono pure affidare. La verità è che Marefuori ha dimostrato che al pubblico di Marefuori, in un certo senso, anche se inizialmente ci odiano, però piace soffrire per loro, e state certi che li faremo soffrire ancora, ecco. Senti, ma voi riuscite a soffrire per i vostri personaggi, invece? Uh, che te lo dico a fare, tantissimo. Cioè, ve la sentite addosso, siete talmente immedesimati che... Sì, assolutamente sì. Ci sta una cosa che vorrei raccontare, però non posso dirla, finché non esce Marefuori 4, purtroppo. Vabbè, poi ti chiamo e me la dici, ma... Beh, sì, sì, sicuramente provo tantissima empatia nei confronti del mio personaggio, anche perché lo interpreto da, insomma, quattro stagioni, non sono poche. Sicuramente, però provo, a volte ci riesco, a volte no, perché mi piace fare questo lavoro immergendomi a mantenere quel giusto distacco di chissà che sta giocando, fondamentalmente. Perfetto, quindi appuntamento? Primo febbraio. Primo febbraio sul replay. E vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Grazie e compiuto. Grazie a te. Grazie a te.